L'avvocato Nino Filastò è stato per molti versi un innovatore nella sua generazione di penalisti. Acuto e pignolo nell'indagine difensiva, era munito di una straordinaria capacità di intuizione e di logica deduttiva. La sua retorica non era mai fine a se stessa, ma frutto di passione e raziocinio. Ne risultava un eloquio efficacissimo e moderno, nel senso che non mirava a captare l'emozione dell'uditorio, ma a sollecitarne l'intelligenza. Il tutto sorretto da una solida cultura umanistica e dal senso della dignità della professione forense, che non di rado lo condusse ad epici scontri dialettici con i magistrati, di cui mai cercò di captare la benevolenza. Tale lucidità di raziocinio e intuizione manifestò anche nella lunga vicenda del mostro di Firenze, con risultati che ormai possono considerarsi generalmente condivisibili. Per esempio, che l'autore era uno solo, che era probabilmente vicino agli ambienti giudiziari, anche perché spesso agiva ad anticipo rispetto alle strategie degli inquirenti. Non esisteva nessun committente dei diritti né associazione segreta a monte. Dice oggi l'Avvocato Filastò consegna il testimone a chi voglia seriamente proseguire nell'indagine. Che Dio l'abbia in gloria.